Amici di Rectasportion, benvenuto al comunale Iscasas di Villa Simius, inizia la fase eliminazione diretta del secondo trofeo Benetto Piras, Sardegna e Toscana si giocano un posto in finale, la Sardegna ha chiuso al primo posto il girone A con 5 punti, Toscana invece seconda nel girone B con 7 punti. Il segno sia contro la Liguria ieri sia contro il Lazio che arriva, il cross che diventa un gol clamoroso, si sblocca subito il punteggio a Villa Simius, il più velenoso dei cross, diventa la rete del 1-0 per la formazione toscana. Parte Sanna sulla barriera, si resta lì, Concu cerca il sinistro, palla sul fondo, la Sardegna, cross di lui, bello tagliato a vuoto Lodo, si resta lì, lotta in aria di rigore, la Sardegna si salva in qualche modo ma con un tocco di mano ed è calcio di rigore per la Toscana. Il palo e poi sulla respinta Loi arriva Sano Go, ma arriva la chiamata dell'assistente, forse un tocco di Loi. Doppio, allarga per Concu, sovrapposizione di Aime che può portare via l'uomo, va al tiro Concu, ci mette un piede falchi, calcio d'angolo per la Sardegna che prende coraggio. Minocci che insiste, palla arretrata, ancora Minocci che fa il tiro col sinistro, ci distende Lodo, concede il calcio d'angolo alla Toscana, gran parata. Loi, mentre in aria di rigore può provare a puntare Frau, se ne va sul destro Loi. Ancora il palo, a dire no a Diego Antonio Loi, guadagnare almeno il calcio d'angolo, palla che invece non è uscita, allora ancora cresci, forza il dribbling e guadagna. Un preziosissimo calcio di punizione, calcio d'angolo ravvicinato che Concu batte velocemente, si va da doppio, ce l'ha sul sinistro, non calcia però doppio. Palla che torna da Concu, posizione regolare sul fondo, la mette in mezzo, allontana il pericolo la Toscana, poi intervento in scivolata. La posizione di Zucca, servito da Concu, Zucca va alla conclusione con il destro, senza trovare la porta. Pallone Vaselli si gioca per il vantaggio, attenzione a Sanogo, assiste ancora il numero 17, palla al piede, Sanogo, Sanogo. Si dribbla a tutti e poi va a calciare sull'esterno della rete. Il numero 20, prova in trenera di rigore, mette dentro il cross, smanacciato da Sampieri. Palla per Troisi, mezzo al campo, fermato da lui. Tocco in verticale con Lodo che va a vuoto, cresci, salva tutto. Sante messo dentro da Minocci, sulla respinta prova a lui. Conclusione annotata facilmente alla Sardegna che fatica a ripartire. Lui, Gherdina, palla dentro subito a scaldare le mani di Cocco che controlla senza problemi. Concu viene in mezzo al campo, poi si gira ancora Concu. Tocco in verticale per Manconi, arriva Cocco, destro di controbalzo. Tutto facile per Sampieri. Troisi, Cocco, prova ad accentrarsi, fermato il numero 20 che poi torna sul pallone. Sanna, mette dentro il cross per l'inserimento di Zucca. La chiusura, arriva Bellanza che non calcia con la giusta decisione. Tutto facile. Cross altezza, primo palo, l'alza con il tacco Vaselli, poi palla che scorre via. Parte Sanna con il mancino sulla barriera, braccio largo e calcio di rigore per la Sardegna. Parte doppio la parata di Sampieri. Si resta sull'1-0, incredibile. Due calci di rigore concessi dall'arbitro, entrambi con esito negativo. Sulla seconda palla, arriva Bellanza, palla per Zucca. Ancora Bellanza, pensa al tiro Bellanza. Palla alta sopra la traversa, altra chance per la Sardegna. Manconi rischia di essere una verticalizzazione, questa per Piccioli. Scappa via Piccioli, chiusura di Frau. Ancora Piccioli in area di rigore, Piccioli sul corpo di Frau. arriva Loi, entra in area di rigore. Loi la mette dentro, ma se la porta fuori. Lontanata, Concu prova a ripartire. Il doppio che si è abbassato sulla linea dei difensori adesso. Insiste però Loi per quanto riguarda la Toscana, entra in area di rigore. Mentre dentro il pallone, il colpo di tacco di Sano Go sulla linea. Il salvataggio. Che prova a spingere sulla destra. Palla per Loi, ancora Loi in area di rigore. Loi insiste. Si allarga. Prova a mettere dentro il cross. Tutto solo. Ma in fuorigioco. Almeno secondo l'assistente. Conquistare il pareggio. Palla larga sulla destra per Tilocca. Si torna da Concu. Può mettere dentro il cross. Piano piano si riempie l'area della Toscana. Arriva dentro il cross. Chiusura. Con poi Troisi che insiste. Allontanato. La salina concede adesso un 2 contro 2. Lì dietro. Prova ad approfittarne. Allora Di Luca. Entri in area di rigore. Di Luca. Che cosa ha parato Oscar Cocco. Si resta sull'1-0. Bellanza. La lascia lì per Manconi. Zona tiro. Manconi sterzata. Attenzione a questa opportunità. La traversa clamorosa colpita a Tuzaccio. Si resta lì. Il tiro sul fondo da parte di Troisi. Con deviazione. Sarà calcio d'angolo per la Sardegna. Chiama il pallone Manconi. Servito il numero 11. Mette dentro il pallone per l'inserimento di Zucca. Colpo di testa. Attenzione alla seconda palla. La chiusura fondamentale della difesa toscana. Conco. Vada Frau. Frau mette dentro un altro pallone. Attenzione alla palla che resta lì. Il sinistro. Provato da Manconi sul fondo. Altra occasione per la Sardegna. Gardina. La butta lì in avanti. Esce Cocco. Non c'è più tempo. La Toscana vince. 1-0 a Villa Simius. E vola in finale per il secondo. Trofeo Benedetto Piras. Fuori a testa alta. Altissima la Sardegna. Fuori a testa alta. Grazie a presti.